22 settembre, San Maurizio Martire, il compatrono del paese parrocchio di cui sono parroco qui a Montemurro in Basilicata. È un santo legato alla cosiddetta legione Tebea. Che cos'è una legione? La legione è un insieme di soldati, un'unità organica era dell'esercito romano e poteva contare fino a 6-7 mila soldati. Naturalmente in periodi diversi erano diversi i numeri. La legione Tebea si chiamava così perché provenivano i soldati per lo più da Tebe, cioè dall'Egitto. San Maurizio era un ufficiale, era uno dei leader, potremmo dire, uno dei capi di questa legione Tebea ed era cristiano, come la maggior parte dei soldati che facevano parte di questa legione. Ora noi sappiamo che in Oriente il cristianesimo si diffuse in modo più veloce e in modo più capillare rispetto all'Occidente. E allora ecco che intorno al 287 d.C. era imperatore Massimiano Herculeo, quindi all'incirca una ventina d'anni, meno di vent'anni prima della grande persecuzione di Diocleziano del 305 d.C., avvenne l'Eccidio, la strage della legione Tebea o di molti soldati della legione Tebea ed avvenne in questo modo. L'imperatore voleva mettere ordine in una parte del sud della Francia, una zona dell'Europa corrispondente più o meno con la Savoia, la parte sud-orientale della Francia e la cosiddetta Vallè, una zona della Svizzera, naturalmente anche una parte dell'Italia, quindi la Valle d'Aosta, qualche altra valle piemontese. E lì c'erano un gruppo di Celti, di Galli, che si erano ribellati all'imperatore. E allora ecco che la legione Tebea fu mandata lì per domare la sedizione, per sottomettere questi barbari, per riportare l'ordine in quella regione. Però ecco ci fu un inconveniente, perché molti di questi Galli che si erano ribellati erano cristiani. E l'imperatore voleva farli uccidere solo per il fatto che erano cristiani. Naturalmente ecco la legione Tebea che proveniva dall'Oriente, i soldati provenivano dall'Oriente, erano anch'essi in gran parte cristiani. E quindi si rifiutarono di uccidere dei correi legionari, degli appartenenti alla stessa fede, loro, anche perché dicevano non hanno fatto niente di male. E tra questi, naturalmente furono tantissimi i soldati martirizzati, tra questi emergeva Maurizio. Non solo Maurizio, che poi è diventato celebre e venerato in tutta Europa, tanti paesi, tante città come St. Moritz e persino in Inghilterra portano il suo nome. Ma anche altri soldati meno conosciuti come San Vittorio, come San Vincenzo, non è il San Vincenzo di Saragozza naturalmente. Come Sant'Innocenzo, tantissimi soldati furono trucidati. E San Maurizio, però, che era un po' il capitano, che era un po', come dicevo, il leader, si rivolse al messo dell'imperatore, al rappresentante dell'imperatore, dicendo Noi siamo pronti a combattere contro qualsiasi nemico dell'imperatore, ma non siamo disposti a uccidere persone innocenti solo perché l'imperatore ce lo comanda. E poi diceva ancora San Maurizio, noi siamo pronti ad ubbidire ad ogni ordine dell'imperatore di questa terra, ma non siamo pronti però a disubbidire a nessun ordine dell'imperatore del cielo, di Dio. E poi se ne uscì con una lode bellissima alla Santissima Trinità, come ci raccontano le cronache, in modo particolare Diosculo di Lione, che scrive qualche secolo più tardi questa storia. Ecco, San Maurizio loda il Padre perché ha creato ogni cosa, loda il Figlio perché ha redento il mondo, loda lo Spirito perché santifica ogni creatura che apre il suo cuore a lui. Naturalmente dicevo della fortuna che il culto, che la devozione a San Maurizio ha ricevuto in tutto il mondo. E tra queste persone, tra i popoli che hanno dato un particolare tributo di culto a San Maurizio, ci sono sicuramente i Savoia, i Savoia che sono stati i re d'Italia, fino a che non è stata proclamata la Repubblica, e che in onore di San Maurizio proprio fondarono un ordine cavalleresco dedicato a lui e che nonostante in Italia sia poi subentrata la Repubblica, come sappiamo, questo ordine cavalleresco di San Maurizio, questa croce all'onore, che viene conferita in alcune particolari situazioni, per alcuni particolari meriti, è rimasta ancora anche nella Repubblica Italiana. Ma ecco, è compatrono di Montemurro e in passato, Montemurro è la parroccia, il paese di cui sono parroco, e in passato veniva pregato, a parte che era considerato il santo dei galantuomini, quindi un po' dei nobili, dei ricchi del paese, ma veniva invocato da tutto il popolo, soprattutto nei momenti di siccità o nei momenti in cui c'erano problemi meteorologici, soprattutto quando mancava la pioggia, ma anche quando era eccessivamente abbondante e provocava eventi franossi. San Maurizio prega per Montemurro, prega per l'Italia, prega per l'Europa e per la Chiesa.